Buongiorno, oggi parleremo di post-impressionismo. Il post-impressionismo raggruppa un gruppo di pittori che ha avuto un inizio come impressionista, ma che poi cerca di andare oltre l'impressionismo. Gli impressionisti per la prima volta avevano rotto con le regole del passato, aggiungendo e concentrandosi in maniera particolare su quella che era la percezione visiva. Avevano scoperto che potevano esserci nuove associazioni di colori e che la luce non era più la luce di interno, ma era la luce ample in air. Avevano dato anche una nuova spinta all'artista, perché l'artista non era più al servizio di un committente, ma finalmente era libero e poteva interpretare la realtà come voleva. I pittori impressionisti, i post-impressionisti invece, che cosa fanno? Riprendono le regole classiche come la linea di contorno, il chiaroscuro, la prospettiva, la proporzione, l'armonia, il disegno geometrico, ma lo reinterpretano da un punto di vista del tutto personale. Assistiamo in questo periodo a un concetto di bellezza che non è più universale, come dicevano gli antichi greci. Cosa avevano fatto gli antichi greci? Avevano codificato delle regole, se si rispettavano quelle regole si creava il bello ideale e non c'era dubbio, se non si rispettavano queste regole non c'era il bello ideale, non c'era l'universale. Passiamo da questa idea appunto di universalità e età della bellezza a un'idea soggettiva della bellezza, perché se ognuno di noi può intraprendere la propria strada, se ognuno di noi può dare il proprio punto di vista sulla realtà, voi capite quante migliaia di sfaccettature ognuno di noi può avere sia all'interno di sé e poi può presentare nella sua visione del mondo. Se vogliamo semplificare però questi vari percorsi che intraprendono i pittori post impressionisti, abbiamo due stade principali. La prima strada intraprende un approccio scientifico, il capostipite di questo approccio scientifico è Seurat ed è l'ideatore del puntinismo. Il puntinismo poi influenzerà la pittura italiana e in Italia prenderà il nome di divisionismo. Il secondo gruppo invece cercherà di andare oltre la percezione visiva in due strade. La prima guardare la realtà ragionando su di essa, cioè guardare la realtà non soltanto attraverso l'occhio ma interpretandola attraverso il cervello. Il capostipite di questa nuova strada è Cézanne. La seconda strada la intraprendono Gauguin e Van Gogh i quali vedono la realtà attraverso le proprie emozioni, sia giocando sul colore sia giocando su con elementi simbolici.